Senti il rumore del mare, eh? Consolante, consolante. Oh, sorelle, mi raccomando in catechesi, eh? Stasera. Mi raccomando con la minigonna. Che hai detto? Scusa. Eh? Quanto mare, 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 mare. La visuale, diciamo, si estende. Rilassante. Mi fa pensare, per esempio, ai tempi dell'arca di Noè, quando c'era il diluvio, non c'era una terra emersa. Quel povero Noè, dentro l'arca, con due leoni, due elefanti, due scoiatti, due cieli. Tutte le coppie degli animali stavano. Lunghi, lunghi 40 giorni. L'altra sera mi trovai proprio in difficoltà in catechesi. Perché? E mi chiesero, padre, ma, cioè, Noè, che cosa faceva nell'arca? E io rimasto spiazzato. E potevi dire pescava? Beh, come, con due vermi.